Belli da vedere, retaggio di un antico passato, oggi trappola per pedoni, anziani e passeggini. Di cosa parliamo? Della pavimentazione stradale in San Pietrini. Se già così di per sé è il crucio di eleganti signori in tacco 12, diventa un problema serio quando il San Pietrino viene a mancare. In corso Fogazzaro, ormai gli inciampi e le cadute sono all'ordine del giorno. Già ad agosto, grazie ad un telespettatore, abbiamo documentato la rovinosa caduta di una signora con i passanti che l'hanno soccorsa e manco farlo apposta, in mattinata un'altra signora è inciampata proprio nello stesso punto. Anche per lei, rovinosa caduta e ghiaccio sul ginocchio, offerto da Santa Giuliana, commerciante di corso Fogazzaro, che ormai dice è una cosa indecente perché ho chiamato, richiamato, ormai è passato più di un mese e qui continuano a cadere delle persone, tanto che ho pensato il mio negozio di trasformarlo in pronto soccorso per corso Fogazzaro. E tra cadute, passeggini che si bloccano nel buco lasciato dal San Pietrino e inciampi vari, ha deciso di fare qualcosa. Questa mattina, avendo la bomboletta oro, ho pensato di cerchiarli per evidenziare, è anche un po' florescente, vedo che la gente guarda, evita la buca e quindi sto salvando delle persone. Iniziativa apprezzata dai tanti passanti. Assolutamente sì, direi sia per gli anziani, anche per i giovani un po' sbadati, per le mome con i passeggini, direi di sì. Si rischia di finirci dentro. Eh sì. Con il cerchio dorato sembra un'installazione artistica, sì. Non è un problema effettivamente, anche perché poi magari ghiaccia, cose del genere. Ma si vedono molto molto di più e mi fa molto piacere. Parlate magari anche col sindaco, cosa ne pensi? Anche perché qua uno che esce con un paio di scarpe nuove, torna a casa e ne deve comprare un altro paio. Finire incastrati così è un rischio, non so. Notevole, notevole. Non solo per i passeggini ma anche per le persone che camminano e soprattutto per i disabili.